La squadra nautica di salvamento di Verbania, un reparto speciale dell'AMPAS che soprattutto in estate garantisce un servizio davvero straordinario per la sicurezza dei cittadini. Test di preparazione all'estate, il periodo più impegnativo e più carico di lavoro per gli specialisti della squadra nautica di salvamento di Verbania. Solo nell'ultimo anno la squadra aderente all'AMPAS ha svolto oltre 1700 servizi di emergenza, 118 con ambulanza e circa 50 interventi con imbarcazione. Il gruppo di soccorso nasce come associazione di volontariato nel 1988 e addetta agli interventi di emergenza sull'intera superficie del Lago Maggiore, ben 212 km2, e nei comuni di Verbania, Griffa, Ogebbio, Antoliva, Biganzolo e Zoverallo. Chiaramente con l'apertura delle isole Borrome, periodo da la settimana prima di Pasqua fino a fine di ottobre, gli interventi di emergenza soprattutto delle isole Borrome si incrementano. Chiaramente con l'afflusso di turisti soprattutto dalle nazioni vicine quali Francia, Austria, Germania e soprattutto la Svizzera che è confinante col territorio italiano. La squadra nautica di salvamento di Verbania dispone di un centro mobile di rianimazione, un'ambulanza avanzata dotata di ogni apparecchiatura in grado di portare soccorso a pazienti in condizioni critiche. Le imbarcazioni di soccorso sono equipaggiate come delle vere e proprie ambulanze, chiaramente con spazi leggermente più ristretti, essendo delle imbarcazioni dei mezzi che vanno sull'acqua. Un pochettino più scomode chiaramente rispetto alle ambulanze, ma a tutti gli effetti con equipaggiamento di un'ambulanza, quindi con ossigeno, con defibrillatori, con aspiratori, con barelle, sedie barella. Per garantire un servizio 24 ore su 24, la squadra nautica di salvamento è dotata di 5 ambulanze, 2 automediche per i viaggi sanitari non d'urgenza, 2 imbarcazioni utilizzate per il servizio di emergenza 118 sul Lago Maggiore, un gommone per interventi di protezione civile. È l'unica situazione in tutta Italia che ha un'attività 118, 24 ore su 24 e indipendentemente dalla chiamata della centrale operativa può uscire sia con ambulanza che con imbarcazione.